Indicazioni astrologiche del giorno Toro si trova impossibilitato ad agire ed è molto agitato e nervoso. Sono giornate tese per gemelli, che in questi giorni potrebbe perdere la pazienza con poco. Oroscopo domani fortunato per cancro, che è tra i segni favoriti nella classifica dei infatti vostri di oggi. Per il leone questo è un momento di forza e grande positività ed energia che riguarda anche le nuove idee. Ci vuole prudenza nel lavoro per Vergine, soprattutto per chi a breve dovrà fermare un accordo. L'aspetto particolare di Venere indica che bilancia potrebbe avvertire un senso di nostalgia legato ad un amore del passato. Recupera lo Scorpione, che non deve sottovalutare i nuovi contatti. L'oroscopo domani indica che per il Sagittario ci sono ancora numerosi ostacoli da superare entro fine mese. Saturno nel segno indica che Capricorno è polemico ed agitato. Il nuovo transito di Giove favorisce l'acquario che potrà contare su qualche notizia positiva in più. Alcuni cambiamenti rendono pesci nervoso ed agitato.Oroscopo domani 13 novembre 2018 Paolo Fox, segni favoriti nelle sorprese martedì. Toro 5 stelle, l'oroscopo domani segnala la luna in ottimo aspetto. Ora inizi a riflettere sulla tua vita e sulle questioni sentimentali. Hai voglia di fare cose nuove, Urano da maggio sta portando dei cambiamenti nella tua vita. Molti sono stati costretti a dover fare delle scelte, oppure ti sei trovato nella condizione di dover iniziare un nuovo percorso di vita. Chi è in attesa di cambiare, è probabile che a novembre non si verifichi questa condizione. Venere infatti non è più opposta e quindi ciò che non hai potuto fare entro ottobre, sarà fatta dicembre. Questa attesa aumenta la tua agitazione.Campo 5 stelle, secondo l'oroscopo domani nonostante la luna all'opposizione determini dei dubbi, ciò che stai facendo ti piace ma vorresti qualcosa in più. Saturno è a posto, prima di una certa data non potrai effettuare determinate decisioni. Sei un segno che ha un gran bisogno di amore. Se dopo una separazione hai un nuovo amore, puoi vivere questa condizione senza lasciarti andare troppo. Scorpione 5 stelle, è una giornata buona per i viaggi, i contatti e le relazioni. È un momento positivo anche per far valere le tue idee e le tue intuizioni. Se c'è qualcosa che ti interessa, non esitare a dirlo direttamente ed apertamente. Qualche discussione con acquario e leone, ma anche una grande passione.Acquario 4 stelle, i nati del segno sono attratti dal futuro, è un momento importante anche per mostrare la propria generosità e fare entrare nella tua vita persone nuove. È un momento in cui bisogna ritrovare la forza e l'energia. Giove ha già iniziato transito buono, chi ha un problema di lavoro o sta per concludere un affare, finalmente otterrà buone notizie. Giove infatti sblocca le situazioni da tempo in sospeso. Ora è possibile che tutto ciò che è stato fermo negli ultimi mesi potrà ripartire. L'amore è sotto tono, in questo momento ci sono delle preoccupazioni e delle tensioni che non ti consentono di fare ciò che desideri. Dal punto di vista economico-finanziario può esserci un miglioramento anche a livello economico. Classifica segni infatti vostri di oggi, Oroscopo domani di Paolo Fox.Ariete 4 stelle, per troppo tempo sei stato in disparte ed ora torni ad essere attivo e combattente. Ad agosto hai alzato la voce, ed ora devi ripartire da lì. In amore ad esempio se c'è stata una crisi ora puoi pensare a ricucire il rapporto o magari voltare pagina definitivamente. Nel lavoro anche dal punto di vista pratico hai buone idee che devi sfruttare nel medio termine. Leone 4 stelle, c'è un'ottima posizione di Giove e non puoi più rimandare le cose da fare. È arrivato il momento di circondare gli altri con il tuo affetto e la tua primora. A livello sentimentale questo è un periodo creativo, puoi fare progetti importanti. Hai grande fascino, anche per i singoli è più facile fare nuove conoscenze e magari suscitare l'attenzione di chi ti è vicino. Fissati degli obiettivi da raggiungere perché questo è l'anno giusto per farcela. Sei un segno collaborativo, ora puoi pensare di realizzare un grande progetto, avvalendoti della compagnia degli altri. Bilancia 3 stelle, non è facile trovare una condizione di equilibrio, soprattutto nel lavoro dove ci sono delle tensioni che dovrebbero essere risolte. In amore ed in famiglia sei costretto a fare buon viso a cattivo gioco. Si tratta di una condizione alla quale sei abituato, infatti anche con Saturno opposto lo scorso anno ti sei trovato in una condizione simile. Ora sei molto arrabbiato e nervoso, ma alla fine di tuoi impegni ti porteranno al successo. Per l'oroscopo domani una persona del passato potrebbe tornare a farsi sentire. Potrebbe essere un errore tornare a rivivere emozioni del passato. Pesci 3 stelle, i segni d'acqua sono i segni che più di ogni altro vivono l'amore in maniera attiva e coinvolgente. Ci sono dei cambiamenti che rendono nervosi. Per te è difficile fare una scelta e per questo motivo preferisci che la facciano gli altri. Se in coppia c'è una crisi, potresti anche decidere di dare maggiore spazio agli altri, e magari vendicarti così per un torto che hai subito. Condizioni astrologiche dall'oroscopo di Paolo Fox del giorno, previsioni.Gemelle 3 stelle, ti trovi in una condizione di forte preoccupazione e turbamento. Qualcuno nel fine settimana potrebbe averti fatto innervosire. Bisogna quindi essere prudenti ed evitare di alimentare ulteriore agitazione. Ci sono questioni di tipo burocratico che dovranno essere risolte. Chi è più in crisi dalla seconda metà di novembre potrebbe avere maggiori difficoltà. Meglio affrontare e provare a risolvere determinate problematiche nell'immediato. Vergine 3 stelle, dalla seconda metà di novembre dovrai cercare di risolvere alcuni problemi fisici e di forma. Sommatizzare i problemi però rischia di complicare la tua condizione. Meglio approfittare delle prossime due settimane per risolvere determinate questioni in sospeso. Attenzione alle clausole e dai contratti, agli accordi che magari sono anche già stati presi, e che potrebbe essere il caso di dover rivedere. Sagittare 2 stelle, è arrivato il momento di parlare chiaro. Ti trovi in una condizione di grande influenza, determinata dal nuovo transito di giove nel tuo segno zodiacale. Chi negli ultimi tempi non ha avuto la possibilità di fare tutto ciò che desidera, a breve otterrà la sua rivincita. Marte da metà novembre tornerà ad essere attivo. Ora ti trovi in una condizione di forte rabbia, ed anche in amore c'è maggiore voglia di stare insieme al partner. Hai voglia di fare cose nuove, ed anche nel lavoro ti troverai addirittura in imbarazzo perché avrai tante opportunità, tanto da fare confusione. Tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre ci saranno quindi migliori stelle. Capricorno 2 stelle, c'è grande voglia di emergere, hai una grande ambizione e riesci a convincere tutti grazie alla tua determinazione e dalla tua testardangine. Delle volte capita che secondo l'oroscopo domani e nei prossimi giorni possono esserci degli scontri tra genitori e figli. Ci saranno degli ostacoli che però potranno essere superati. La seconda parte di dicembre, ed il mese di gennaio e febbraio saranno migliori. Saturno nel segno indica che c'è grande agitazione. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.